Una grandissima Italia conquista la finale in ridata ai mondiali di Guangyu 2019 per la prima volta dopo 8 anni e stacca così definitivamente il pass diretto per Tokyo 2020. In semifinale un grandissimo classico Italia vincitrice di 3 Olimpiadi, 3 Mondiali, 3 Europei contro una superpotenza del pallanuoto maschile ovvero l'Ungheria, vincitrice di 9 Olimpiadi, 3 Mondiali e 12 Europei. Italia che affronterà in finale la nazionale iberica, Spagna che ha battuto per 6 a 5 la Croazia, Spagna ricordiamolo vincitrice di 1 Olimpiadi e di 2 Mondiali. Un'Italia grandissima con tutti i giocatori che hanno svolto un ruolo fondamentale per questa vittoria nei confronti della nazionale Magiara. Partiamo dall'inizio con il primo quarto che parte con l'Ungheria in forte spinta. Infatti il parziale del primo quarto vede 4 gol per i Magiari e 2 gol per il Settebello. Sinceramente il primo quarto non l'ho visto, quindi non vi so dire i gol degli ungheresi, ma i due gol italiani vengono realizzati da Di Fulvio. Nel secondo quarto invece l'Italia si sblocca, riesce a fare un quarto strepitoso, 5 gol italiani, 4 gol in 2 minuti e mezzo, con la tripleta di Eceniche, un gol di Di Fulvio e un gol di Bodegà. Sempre nel secondo quarto riesce a fare solo un gol l'Ungheria con Zalanchi, dunque parziale di 5-1 e risultato appunto momentaneo di 7-5. Nel terzo quarto si parte subito con Jansik, l'ungherese che sbaglia un tiro abbastanza facile, era diciamo una specie di rigore in movimento, ma la palla rimbalza e quindi non riesce a entrare in rete. Del Lungo fa un'ottima parata su un tiro di Vamos, poi arriva il gol però sempre dell'Ungheria con Arai, che accorce così le distanze. Subito dopo Arai anche Anghial riesce a fare un gol riportando l'Ungheria in un pareggio a 7-7. Ci pensa però Figari con un gol a riportare l'Italia in vantaggio. Sul finale Arai viene espulso, ma si rifiuta di uscire dalla vasca e anzi continua a contrastare Figlioli e dunque viene assegnato al rigore. Il rigore è tirato proprio da Pietro Figlioli che riesce a fare un gol, quindi il parziale del terzo quarto è 2-2 con l'Italia che dunque è in vantaggio per 9-7. Ultimo quarto accesissimo, subito in partenza l'Ungheria parte fortissima con Vamos che fa gol sfruttando un'ennesima superiorità numerica e velotto l'italiano viene espulso. Poi una doppia parata del lungo su due tiri di Vamos, veramente del lungo nell'ultimo quarto è stato strepitoso. Ha parato di tutto e di più, due tiri ravvicinati di Vamos e è riuscito a parrarli entrambi. Figari riesce di nuovo a riportare con due gol di vantaggio l'Italia con un gol a 4 minuti dal termine della partita. 30 secondi dopo gli risponde l'ungherese Zalanchi, ma arriva di nuovo la controrisposta dell'Italia con Gonzalo Echenique che riesce a fare il suo quarto gol e riesce di nuovo a riportare l'Italia con un vantaggio di due reti. Del lungo fa una bellissima parata di nuovo su Vamos e anche su Zalanchi. Con il VAR però è stato appurato che il tiro di Zalanchi era entrato. Sinceramente dalle immagini che ho visto io il tiro era fuori, però ovviamente i giudici della VAR hanno delle altre visuali quindi molto probabilmente ne sanno molto più di me, insomma. Però gol che non è stato per niente decisivo dunque, va bene così, insomma. Infatti subito dopo Stefano Luongo risponde con un grandissimo tiro di potenza e riesce di nuovo a riportare sempre il vantaggio dell'Italia, sempre su due reti. Del lungo proprio sul finale fa una bellissima parata su Zalanchi, il pallone rimbalza e ritorna al giocatore Magiaro che riesce a ritirare ma del lungo para di nuovo. Questo proprio nel finale ed è risultato veramente decisivo per l'Italia che dunque riesce a portarsi in finale con appunto un risultato di 12 a 10. Veramente una partita strepitosa del settebello e adesso speriamo che con la nazionale iberica si possano ripetere. Comunque io vi invito a lasciare un commento, mi piace iscrivervi, seguirci anche sulla nostra pagina Instagram e noi ci vediamo a un prossimo video.